Signora Simoneschi Cortesi, con i dovuti aggiustamenti, riprendo il fondo per finanziare il servizio pubblico, sarebbe una strada percorribile anche per voi? Io vorrei tornare un attimo su quella considerazione che è giusto. Sì, certo, noi abbiamo un libero mercato e la libera concorrenza è un valore importante, però non deve andare a discapito di certe cerche della popolazione. Ora noi sappiamo dall'esperienza che è stata fatta in altri paesi europei, e sono pochi che hanno aperto completamente il mercato, abbiamo visto che purtroppo i concorrenti della posta le fanno concorrenza nelle agglomerazioni, le portano via dei grossi clienti nelle agglomerazioni. Siccome la posta paga la rete degli uffici postali e delle agenzie con i proventi del monopolio, la stessa posta in un suo documento ha detto a noi questi rest monopoli, come si dice, questo monopolio restante delle lettere fino a 50 grammi ci serve, ci serve proprio per compensare i minori costi o i costi aggiuntivi che noi abbiamo, visto che per legge noi dobbiamo offrire il servizio pubblico a tutte le cittadine, a tutti i cittadini del nostro paese. Dunque non è che ci si può sottrarre a questo. Allora sentiamo cosa ne pensa Pamini proprio su questo, cioè far entrare degli altri attori che andrebbero a mangiare i bocconi buoni, insomma le fette buone della torta sulle agglomerazioni, indebolirebbe la posta, questa la tesi, e così la posta non avrebbe più i mezzi per restare, capillare e garantire il servizio universale. Certo, io seguo l'argomento, lo si sente spesso, ma pensiamo ad altri settori, per esempio pensiamo al mercato alimentare, pensiamo alle auto-officine, questi sono già liberalizzati e nessuno sta adesso proponendo di sovvenzionare o di tenere una struttura dei negozietti, per esempio anche nei paesi più remoti a spese dello Stato o spingendo un monopolio di... Ma è un'altra cosa comunque... No, non è un'altra cosa perché sono esattamente problemi di infrastruttura nelle regioni periferiche e non mi dica che comprare da mangiare non sia un servizio di base. È un'altra cosa, è assolutamente le infrastrutture di base, la Grundversorgung come si dice in tedesco, il servizio di base, il servizio universale di base è un elemento importantissimo per lo sviluppo economico e sociale di un paese, lei lo sa meglio di me. E dunque ne fanno parte quelle che erano le ex regie federali, e dunque la posta, le telecomunicazioni, le autopostali, il servizio del trasporto pubblico, eccetera, eccetera. Sono importantissimi proprio per mantenere nelle nostre vallate le persone che vogliono rimanere anche a vivere ma anche a lavorare. Dunque noi abbiamo fatto una politica economica e regionale negli ultimi 50 anni molto performante, molto interessante, dove siamo riusciti a fermare se vuole l'esodo dalle valli, però adesso non dobbiamo andare a togliere le infrastrutture di base perché altrimenti questo esodo lo provochiamo. Ed ecco che è importantissimo non sguarnire le regioni periferiche, dunque al di fuori delle agglomerazioni e le regioni di montagna. E per questa ragione che questa apertura totale in questo momento non è opportuna. Ecco, con tutta la prudenza del caso che chiede lei, ma vede anche dei vantaggi, pensiamo al cliente, i prezzi andrebbero pian piano verso il basso oppure lei non crede neanche a questo? Chiede a me? Sì, sì. No, io penso che questo non è assolutamente vero. Dagli esempi che abbiamo visto, abbiamo visto appunto che nelle agglomerazioni dove si svolge una certa concorrenza, magari anche i prezzi vanno giù, però con la parte negativa che ho detto prima che si sguarniscono poi le regioni periferiche di montagna. Abbiamo visto per esempio la posta svedese che ha perso tantissimi posti di lavoro che non sono stati sostituiti dalle concorrenti della posta svedese. Abbiamo visto la posta inglese, la Royal Mail, che ha avuto grossissime difficoltà tanto che lo Stato della Gran Bretagna ha dovuto intervenire a finanziare, ad aiutare la posta inglese perché era addirittura sull'orlo della bancarotta. Lei vede che questa idea del fondo che fa parte della legge, quando un domani si aprirà completamente l'apertura del mercato, questa idea del fondo è proprio perché si sa che la posta avrà dei costi non coperti e dunque l'idea del fondo è di dire preleviamo un certo per cento della cifra d'affari di tutti i concorrenti e poi con quello andiamo a coprire i costi non coperti. Oppure alla fin fine, se proprio non ci riusciamo neanche con quello, lo Stato dovrebbe intervenire. Però qui i puri liberisti saltano in aria e dicono no, no, già mai lo Stato non deve intervenire a sostegno della posta. Pammini è stato in aria? Se sono state studiate queste tre possibilità è perché si sa che la posta con un'apertura totale perderebbe dei grossi clienti soprattutto nelle agglomerazioni e avrebbe dei costi non coperti per il servizio universale. Una domanda, ma perché lei vuole impedire a gente innovativa, con entusiasmo? Possono essere anche molti giorni ma anche dei cinquantenni. Posso farle una domanda, Pammini? È l'unico vantaggio che vede, al di là poi dell'aspetto morale che ha sottolineato all'inizio? O ci sono altri vantaggi nel liberalizzare completamente? Secondo me dal momento che l'offerta poi dovrà forzatamente andare un attimo incontro alla domanda posso immaginarmi che gli orari di apertura cambierebbero, che il tipo di servizi cambierebbero però non lo so, se lo sapessi sarei un manager nell'industria postale. Dappertutto a Zurigo, Ginevra e Lugano e in pochi altri centri. Ma guardi, non possiamo saperlo, non possiamo neanche decidere noi politicamente quale sia la forma industriale migliore per produrre questo servizio non siamo dei manager nel campo, in questo settore economico. Noi dobbiamo porre delle regole di base. Chiaro, negli ultimi anni è comunque già...